Si scambiano le letterine Marco Marsilio e Luciano D'Alfonso, due figure politiche speculari, entrambi al timone della regione Abruzzo, mentre l'altro siede in Parlamento. Marsilio infatti era senatore prima dell'elezione a presidente regionale ed Alfonso lo è diventato al termine del mandato di governatore. Dopo mesi di battibecco a distanza, su meriti e demeriti che ricadono sugli abruzzesi, i due sono arrivati, senza l'utilizzo di mezzi termini, allo scontro quasi a viso aperto tramite due lettere pubbliche. Senatore D'Alfonso si vergogni, questo l'incipit che non lascia spazio a fraintendimenti, scritto dall'esponente di Fratelli d'Italia. Il caso sbelli è l'accordo firmato con il ministro per il sud e la coesione territoriale provenzano per la riprogrammazione dei fondi europei e nazionali. Come può lei che ha votato il decreto rilancio con gli articoli 241 e 242 sulla base dei quali l'accordo con le regioni è stato fatto, protestare perché applico la legge? E' quanto Marsilio chiede ad Alfonso prima di attaccarlo sul masterplan. Io ho salvato centinaia di milioni di opere, sostiene l'attuale presidente regionale, opere che non subiranno alcun ritardo nonostante questa riprogrammazione. Mentre all'inizio del 2019, prosegue Marsilio, lei ci ha lasciato un masterplan che aveva registrato come stato d'avanzamento della spesa meno del 2% dei fondi stanziati. Marsilio poi accusa ad Alfonso di mitomania. E' una favola, scrive il governatore, il fatto che lei ha portato 2 miliardi e 800 milioni all'Abruzzo, quei soldi infatti sarebbero arrivati chiunque fosse stato il presidente della regione. Al termine del suo mandato, conclude Marsilio, lei ha abbandonato la nave che affondava per approdare in Parlamento. E la piccata risposta di D'Alfonso non si è lasciata attendere. Il senatore del PD l'ha affidata ai social, così che i suoi follower la traghettassero di schermo in schermo fino agli occhi di Marsilio. Il suo campo d'appartenenza è nella cultura della vergogna. Questa è la prima di una serie di frecciatine assai poco velate. Gli articoli 241 e 242 del decreto rilancio non parlano di necessità, ma di possibilità, ricorda D'Alfonso a Marsilio, il quale quindi non sarebbe obbligato a ridestinare i fondi. Il senatore risponde anche all'accusa di raccontare favole a proposito dell'automatismo, con cui sarebbero arrivate le risorse del masterplan. L'Abruzzo, come regione in transizione, sarebbe finita tra quelle che accedono al riparto del 20% dei fondi per la coesione, sottolinea D'Alfonso. Con il nostro lavoro abbiamo ottenuto che fosse inserita tra quelle che concorrono all'80%. Mi domando piuttosto cosa sia stato fatto in 18 mesi di governo Marsilio. Se vuole che mi occupi io dell'Abruzzo al suo posto, provoca il parlamentare, sono a sua disposizione. In conclusione D'Alfonso lancia la sfida, confrontiamoci, dice a Marsilio, sulla esatta interpretazione degli articoli 241 e 242 del decreto rilancio, davanti a una giuria d'onore a rilevanza tecnica, formata da personalità nazionali e regionali. E ora la palla è di nuovo nelle mani del governatore, che dovrà decidere se rispondere o lasciar correre, se accettare o no il duello davanti alla giuria di qualità in odor di Sanremo. I due infatti non si sono mai confrontati faccia a faccia, se non tramite questo grottesco rapporto epistolare, nel quale contano più i toni che la sostanza, in cui ricordano due sposi, ormai consumati dal matrimonio, che comunicano solo tramite avvocato.